Sì, cazzeggiano! Grazie, siamo a... Noi sì, loro no, loro no! Prego, 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 prego da sopra, quando giocano a nanzo... No, no, ripresa anche lui, quando si fa la mano e sicuramente quando ripresa la legge sarà molto migliore di quanto ripresa la legge. E' un'accento più migliore, però è un'accento più migliore, Presidente, che prego qua. Questo è un libro che da sopra la FEDEA, c'è un po' lenti che è pregabile, e una comunicazione di realtà è in Italia. Grazie per voi, prego io, 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 prego Qual è il problema? Non sto riprendendo, Giochetto. Non sto riprendendo. Non sto riprendendo. E questo è stato cercato di creare un incidente e questo è stato il progetto. E questo è il risultato che volete ottenere. Volete ottenere questo? Sì, Presidente, io il terreno sono in merito delle mie emozioni, diciamo che c'è un'intendenza veramente media per capire che questo tipo del gioco cutter è veramente una furia di efficienza. perché non si può veramente accettare di inserire un attivo a contenere sulla legge del rega. Voi scusi, Presidente, vi faccio dire questo. Siamo veramente a paradosso. Allora il cittadino deve essere controllato in tutto. Dardo di credito, espostamenti, video sorveglianza. Il signore degli apolletti di gestione della mia Cazzina. Grazie. A tutti. E questo è il governo di credito, a parte la faccia della legge del risultato di suonare la posta. Grazie. 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 La ringrazio. Siamo a loro un puntone. Sono a primavera e le comprensioni delle autorità, del governo della regione, della regione, della regione, della regione, della regione, della regione e della regione. Io volevo essere buttato fuori, senza riprendere, senza riprendere, mi hanno richiamato all'ordine e tocchiavo il telefonino in mano e vietabili il regolamento. Io ho l'unico richiamato, non si spiega perché, mi vuole particolarmente bene il giochetto. Sperava lo togliessi, capito? Tutti calmi ora, tutti calmi ora sono ripresi e si boccia, quindi da ora i cittadini possono essere video ripresi mentre lavorano, mentre i politici in commissione fanno il cazzo che gli pare, come sempre.